l'intelligenza dei cessi nelle grandi navi veloci lo schifo a terra ovviamente vabbè il tastino per tirare l'acqua dietro una tavoletta così chi alza la tavoletta per pisciare fa quello che deve fare non tira più giù la tavoletta e non schiaccia il tastino quindi c'è silerci il tastino va messo di lato e da schiacciare col piede